È stata una giornata intensa per Arezzo, il concerto chiude gli 80 anni, la giornata che celebra gli 80 anni dalla liberazione, costellata di tanti momenti importanti e di tante storie. 12 ore esatte di memoria, di ricordo, di storia e soprattutto di ringraziamento a quella generazione che ha permesso a questa nazione di essere libera e a tutti coloro i quali hanno anche dato un tributo di sangue. 80 anni sono un tempo importante, sono anche un tempo difficile perché segna anche la presenza ormai agli sgoccioli di alcune generazioni e quindi il dovere delle generazioni future, presenti e future, di non disperdere la memoria. Arezzo, il sindaco Chinelli ha voluto onorare, mi verrebbe da dire, questi 80 anni al meglio. Ecco, un'estate di sangue, quella del 1944, che è stata ricordata proprio passo per passo. Esattamente, dall'ultima settimana di giugno fino di fatto al 16 di luglio, ogni fine settimana è punteggiato da momenti di sangue che hanno segnato da Palazzo del Piero a San Severo, la strage poi quella più cospicua anche da un punto di vista numerico di San Polo, ma tutti sono stati momenti di sangue. Oggi abbiamo però questa Arezzo Libera, che anche il nipote del carrista Gareth Scanlon ha detto è una città bellissima. È una città bellissima, è una città bellissima fuori, ma anche una città bellissima dentro. Credo che aver accolto i nipoti di coloro i quali, insieme alle forze partigiane, ma gli alleati, ci hanno permesso di chiudere una parentesi tragica e di restituirci la libertà, credo che sia un segno che fonda l'Europa. Quello che è anche accaduto a San Polo con la presenza della nipote, di colui il quale si macchiò di questo fatto di sangue ferato, è la dimostrazione che la storia dà il giudizio e che una volta che la storia ha giudicato e non può che giudicare, si riparte attraverso un'idea di pace e di comunità. Grazie.